Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura di telegiornale parliamo del traforo del Gran Sasso, delle problematiche legate alla sua paventata chiusura. Il prossimo 19 di maggio il sindaco di Teramo al momento ha deciso di sospendere la manifestazione di protesta contro la chiusura del traforo sulla A24. Sulla conclusione della vicenda c'è ottimismo, ma l'annuncio ufficiale sulla revoca della chiusura della galleria non è ancora arrivato né da Strada dei Parchi né dal Ministero. Tra l'altro in questi minuti c'è un incontro in procura a Teramo proprio per discutere degli aspetti legali e delle responsabilità sulla inchiesta dell'acqua del Gran Sasso e sulla eventuale chiusura del traforo a cui sta partecipando anche il presidente della regione Marsilio assieme ad altri rappresentanti di Strada dei Parchi e del Ministero. Comunque andiamo a vedere insieme il servizio di Tania Bonici Castelli. Affermare che il traforo del Gran Sasso non chiuderà il 19 maggio come annunciato da Strada dei Parchi non è proprio esatto. È più giusto dire che non dovrebbe chiudere. Infatti l'annuncio ufficiale sulla revoca di chiusura della galleria sulla A24 non è ancora arrivato né dal concessionario né dal Ministero delle Infrastrutture. Sicuramente a Roma ci stanno lavorando per mettere tutto nero su bianco, per rendere le misure di sicurezza un atto definitivo. Ma ad oggi non c'è niente di ufficiale. Il ministro Toninelli e il vice premier Di Maio assicurano che al MIT si stanno impegnando notte e giorno per trovare la quadra. Insomma, un braccio di ferro tra Strada dei Parchi e Ministero. Una situazione drammatica, come affermano i sindaci dell'Aquila e di Teramo, dove gli abruzzesi sono stati usati come scudi umani. Il clima che in questo momento si respira è però di ottimismo. È stata sospesa infatti la manifestazione di protesta sull'annunciata chiusura del traforo del Gran Sasso, organizzata dall'amministrazione comunale di Teramo alla rotonda dello svincolo della Gammarana. Il sindaco Gian Guido D'Alberto in una nota ha dichiarato che è stato probabilmente ottenuto un successo su una battaglia ed ha aggiunto Noi però intendiamo vincere la guerra e cioè riportare in sicurezza l'acquifero e tutto il sistema idrico della montagna. Per questo continueremo a vigilare e a chiedere confermezza che ci si attivi ciascuno per la propria parte fino al raggiungimento di tale risultato. In ogni caso, avverte D'Alberto, la manifestazione di protesta rimane aperta ad una sua eventuale riproposizione, qualora le azioni messe in campo per la salvaguardia del sistema Gran Sasso dovessero rivelarsi inefficaci o inadeguate. E nel frattempo Strada dei Parchi non ha revocato la decisione della chiusura del traforo della 24 perché non si è ancora risolto il nodo della responsabilità in ordine ai rischi di inquinamento dell'acquifero del Gran Sasso. Non c'è ancora un'intesa che possa sollevare la società dal rischio di reiterazione del reato. Fanno sapere proprio dal concessionario Strada dei Parchi S.p.A. che appunto gestisce A24 ed A25. Ancora un'altra notizia, ma di cronaca, un 73enne di Montesilvano è morto all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad una caduta da un albero di ciliegio in località Castellana di San Vito Chietino. L'incidente era avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. L'uomo era finito prima sul tetto e poi a terra facendo un volo di diversi metri. soccorso dal 118 con l'eliambulanza era stato trasportato all'ospedale di Pescara dove poi è morto per le lesioni riportate e nel caso se ne stanno occupando i carabinieri. Proseguiamo adesso con il nostro telegiornale. Andiamo all'aeroporto d'Abruzzo dove questa mattina è stato inaugurato il primo sportello Info cicloturismo e Bike Station proprio nella zona arrivi e partenze dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Nell'ambito di questa iniziativa c'è stata anche la presentazione della app di collegamento del servizio bike della prima rete Green Hub cicloturisti tra la stazione centrale, il cicloporto turistico e lo stesso aeroporto. Nel frattempo lo scalo aeroportuale punta al milione di passeggeri il servizio di Paolo Renzetti. Stiamo cercando di recuperare il tempo purtroppo perduto con una pista importante che va da Martinsicuro a San Salvo ancora più importante quella che è più bella, più caratteristica quella che abbiamo in provincia di Chiedi da Francavilla a San Salvo ma noi guardiamo a queste piste non solo in termini turistici ma anche come mobilità sostenibile, mobilità residenziale per cui andiamo avanti con questo progetto coinvolgendo Trenitalia e RFI perché chiaramente tutte le stazioni debbano dotarsi di quegli impianti necessari. C'è già un accordo per cui la bicicletta non paga il bagaglio e quindi viaggiamo in questa direzione. Ci crediamo talmente tanto che ci stiamo proponendo come regione capofila per un progetto ancora più ambizioso cioè quello non solo due ruote e treno ma quello di nave, due ruote e treno che è un progetto importante che la comunità europea ha attenzionato. Abbiamo già avuto i primi contatti, la settimana prossima credo che sarò a Bruxelles per discutere di un progetto di cui l'Abruzzo si vuole fare capofila che va dalla Grice e finisce in Puglia. Noi già dall'incontro con Marsilio ho detto al Presidente che l'obiettivo è possibile che personalmente con il Consiglio di amministrazione abbiamo una strategia in questo senso e che in un anno potremmo portare, un anno, un anno e mezzo, potremmo portare l'aeroporto a un successo che aspetta da 20 anni. Naturalmente tutti devono sapere che nessuno atterra gratis in aeroporti come questi che non sono né Fiumicino né Malpensa. Quindi a fronte di una strategia che noi abbiamo ci vogliono degli investimenti. Col Presidente della Regione e la Giunta regionale stiamo ragionando se ci saranno questi investimenti e a noi sarà data la possibilità di sperimentare questa strategia io sono abbastanza ottimista che potremmo avere questo risultato in un anno, un anno e mezzo. Restiamo ancora in tema in qualche maniera di ciclismo perché ci spostiamo a Vasto dove c'è attesa per la tappa del Giro d'Italia che approderà l'Aquila tra scuole chiuse e limitazioni al traffico spiccano le vetrine dei negozi a tema Maglia Rosa. Vediamo. Vasto si tinge di rosa. Dal centro città Piazza Barbacane partirà venerdì mattina le 12.25 la tappa numero 7 del Giro d'Italia. Il sindaco Francesco Menna ha emesso l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado con conseguente sospensione delle attività didattiche e amministrative. L'evento sportivo interesserà un ampio perimetro urbano, contemporaneamente determinerà un ingente afflusso di pubblico spiegano dal Comune. A poche ore dal Giro bandierine rosa sventolano i lampioni, le vetrine dei negozi omaggiano il Giro e la carovana che sta per arrivare. La macchina organizzativa è a buon punto, quindi Vasto aspetta il Giro venerdì 17 maggio? Sì, organizzando anche eventi in attesa del Giro, organizzando la città, organizzando la tappa, organizzando gli esercizi commerciali. Un ringraziamento di cuore va ai cittadini che avranno la pazienza, ma anche il desiderio di vedere il Giro d'Italia e la pazienza di sottostare all'ordinanza che vederà il transito veicolare sulla tappa del Giro. La pazienza è quindi di sottostare agli orari dell'ordinanza, ma allo stesso tempo hanno la gioia e la felicità di vedere per la seconda volta durante il mio mandato il Giro d'Italia e questa volta con una partenza, partenza ricca di colori, ricca di presenze, ricca di tante personalità che godranno la bellezza, la sincerità, la purezza della nostra città. Torniamo a Pescara, ma cambiamo argomento. Il ruolo delle istituzioni nello sviluppo della moneta sociale d'Abruzzo-Abrex è stato questo il tema del convegno che si è svolto presso la sala Tinozzi della provincia di Pescara con Abrex. Negli ultimi anni sono stati portati avanti numerosi i progetti del terzo settore, presenti al convegno l'assessore regionale Piero Fioretti e il presidente della provincia di Pescara Antonio Zaffiri. Vediamo. Quali sono, secondo lei, assessore, le utilità che potrebbe avere un ente come la regione Abruzzo con l'utilizzo per i cittadini abruzzesi della moneta Abrex? Sicuramente è un'iniziativa, quella dell'Abrex, che a tutto campo colpisce la mia delega, in quanto non è solo un discorso nell'ambito sociale, ma sicuramente è un discorso nell'ambito lavorativo e produttivo in generale. Si incastra in quelle che sono le idee che abbiamo da mettere in campo come nuova amministrazione regionale. Si parla soprattutto di terzo settore, un settore che ha bisogno di un aiuto pubblico e privato. È un settore dove sicuramente le risorse scarseggiano e quindi c'è bisogno di un supporto che possa essere questo circuito nuovo che valorizza le capacità della persona, della piccola azienda di poter creare lavoro, di poter creare servizio e poter quindi far rientrare il tutto in una logica di baratto o comunque di supporto fra realtà in logica mutualistica. Abrex può aiutarle a continuare, a sostenere, a portare avanti quei progetti che tutti i giorni le aziende che lavorano nell'ambito del sociale devono sviluppare. Quindi Abrex è uno strumento che permette all'azienda di non fermarsi, di continuare a lavorare e a dare quei servizi di utilità pubblica e sociale che normalmente danno. Siamo uno strumento in più a disposizione delle aziende. Il Comune dell'Aquila ha lanciato un bando al quale la nostra azienda ha risposto e ha patrocinato un'iniziativa che si chiama Compra Aquilano, ovvero lanceremo questa moneta abruzzese, che poi in realtà non è una moneta ma è uno strumento di pagamento a disposizione delle aziende per rivitalizzare quella che è l'economia di un territorio locale che va man mano magari morendo o scomparendo. Il Comune di Montorio ha deciso di intitolare il Cineteatro di Largo Ferrari al regista montoriese Tonino Valeri. La cerimonia si terrà il 20 maggio, giorno del compleanno dello scomparso regista tanto amato da Quentin Tarantino. Sentiamo il servizio. Montorio omaggia uno dei suoi più illustri concittadini, il regista cinematografico Tonino Valeri, intitolandogli il Cineteatro Comunale di Largo Ferrari. La cerimonia di intitolazione della struttura si terrà lunedì 20 maggio, giorno del compleanno del regista montoriese. Perché Montorio? Pensa proprio a Tonino Valeri. Perché è un pezzo storico di Montorio, un regista che ha fatto la storia del cinema nazionale internazionale, il Montorio non poteva che ricordarlo con un'opera che potesse ai postari far ricordare questa figura, l'intitolazione del Cineteatro Comunale a Tonino Valeri. Lo abbiamo voluto perché è da alcuni anni che se ne parlava e quest'anno il delegato alla cultura Lorenzo Valeriani ha voluto riproporre questa idea che è stata sposata dal comune di Montorio e anche soprattutto dal BIM, quindi ringraziamo anche il Presidente Gabriele Minosse che ha voluto darci la possibilità non solo di logistica ma anche finanziaria per far sì che questa intitolazione potesse veramente nascere e quindi definirsi sul territorio comunale. E voi l'avete decisa proprio per il giorno del compleanno di Tonino Valeri? Sì, questa è una data che tutti i montoriesi sono fieri perché quando c'è un, come si dice, Nemo profeta in patria, questa volta riportiamo in patria qualcuno che ha dato lustro al comune di Montorio, lo ricordiamo lunedì 20 maggio dalle ore 18 con interventi istituzionali, alcune retroscena della vita del grande regista ma soprattutto anche con il mio film E Nessuno che penso che non tutti quanti conoscano, anche i più piccoli. L'intitolazione a Tonino Valeri del Cineteatro di Montorio è un ulteriore tributo alla lunga carriera del regista montoriese, ammirato e citato anche da Quentin Tarantino e già insegnito di riconoscimenti da ogni parte del mondo. Iniziativa analoga a Pescara, negli ex locali della circoscrizione Castellammare, nascerà il Teatro Gianni Cordova, intitolato alla memoria del patron della LAD. L'iniziativa è stata resa possibile dalla sinergia fra l'assessorato al patrimonio delle comune di Pescara, la LAD per l'appunto, e il Teatro Stabile d'Abruzzo che coordineranno la struttura subito operativa. Vediamo. Un teatro intitolato a Gianni Cordova della LAD e il Teatro Stabile abruzzese ha contribuito e non poco alla nascita di questa importante iniziativa. Sì, noi abbiamo collaborato sin da subito alle idee che ci sono state avanzate dalla LAD, da Gianni in persona e da William Zola che è il nostro collaboratore da anni su Pescara insieme a tanti altri artisti. Abbiamo collaborato in maniera fattiva alla realizzazione del palcoscenico, della quintatura, di tutta la parte tecnologica, delle attrezzature che sono indispensabili per fare teatro. Lo spazio è molto bello, anche se piccolino perché sono 200 posti, ma quando si inaugura una sala teatrale non siamo altro che entusiasti e felici di poter offrire questo nuovo spazio alla città di Pescara, ma direi a tutto l'Abruzzo perché noi siamo il Teatro Stabile regionale e quindi è il nostro principio compito intervenire sul territorio e questa è una delle operazioni che il nostro direttore Cristicchi, il nostro CDA presieduto dalla De Simone, dalla dottoressa De Simone hanno inteso fare che io insieme ad altri della struttura, Roberta in particolare, abbiamo seguito ormai da dieci anni. Dopo tre anni coroniamo questo sogno, Gianni Corno meritava e merita questo riconoscimento, il progetto è partito insieme a lui, abbiamo delle belle ambizioni, credibili, apriremo questo spazio domani mattina. Si trova in Viale Bovio al 466, l'ex coscrizione Castellammare che è diventato un teatro, quindi ristrutturato, molto bello e sarà un work in progress perché faremo anche delle migliorie in prospettiva. Sarà un centro di ricerca e produzione teatrale aperto un po' in tutta la regione ma anche in tutto il paese. Siamo così arrivati alla pagina dello sport che apriamo parlando di calcio e di serie B. Nelle prossime ore si attende una importante decisione da parte del Consiglio federale che potrebbe disporre lo slittamento dei playoff di serie B che altrimenti partiranno domani sera con il match tra Spezia e Cittadella. Il Pescara continua a lavorare, resta in attesa degli eventi come ci racconta nel servizio Andrea Costantini. Serie B col fiatto sospeso. In corso infatti il Consiglio federale che aveva diversi punti all'ordine del giorno, qui si sono aggiunte le conseguenze del caso Palermo che il Presidente federale Gabriele Gravina sottoporrà all'attenzione del Consiglio. In particolare sotto la lente di ingrandimento sono finite le decisioni del Consiglio direttivo della Lega di Serie B che dopo la sentenza del Tribunale federale di retrocessione del Palermo all'ultimo posto, sfruttandone l'immediata esecutività e senza attendere l'esito del ricorso d'appello, ha confermato le date playoff originariamente previste ed ha anche eliminato i playoff ritenendo la quarta retrocessione, quella del Palermo, senza rimettere in gioco dunque il Foggia nel doppio spareggio con la Salernitana. L'orientamento del Consiglio federale in attesa di decisioni definitive sembra quello di far slittare i playoff in attesa che sul caso Palermo arrivino a sentenza i giudici della Corte federale d'appello. E' questo il caso più urgente perché senza lo stop della Federcalcio già domani sera gli spareggi avranno inizio con Spezia Cittadella. Molto sentita anche la questione della mancata disputa dei playoff, vicenda che si interseca anche con il ricorso del Foggia che sarà discorso domani al Collegio di Garanzia del Coni e nella quale i satanelli chiedono una ulteriore rimodulazione della penalizzazione. Restano alla finestra le squadre qualificate ai playoff. Allo stato attuale il Pescara entra in scena con la semifinale d'andata di mercoledì 22 maggio contro la vincente di Verona Perugia ma tutto può cambiare sia in termini di data, se i playoff dovessero slittare, sia in termini di accoppiamento. Se il Palermo dovesse tornare al terzo posto il Pescara giocherebbe il primo turno secco in casa con la Cittadella. Se il Rosanero dovessero avere una pesante penalizzazione bisognerebbe verificare la nuova classifica. Intanto la squadra continua a lavorare immergendosi nel clima tranquillo del Poggio. La buona notizia di oggi è che Gaston Brugman, che ieri era rimasto fuori, Stamani è tornato regolarmente in gruppo disputando anche la partitella finale. Ha continuato a lavorare a parte con corse intorno al campo Alessandro Bruno, lavoro differenziato sempre per Vincenzo Fiorillo, Cristiano Delgrosso e Ugo Campagnaro. Le prossime sedute, sempre singole mattutine, faranno capire se questi giocatori torneranno in gruppo e dunque regolarmente a disposizione di Beppi Pillon. Scendiamo di categoria, andiamo in Serie C per parlare del Teramo. Incontro a Roma fra l'avvocato tributarista Giovanni Palma e il presidente dei Biancorossi, Luciano Campitelli. L'ex numero due della Juve Stabia sembrerebbe interessato a rilevare una quota consistente del pacchetto azionario del Teramo. Ci dice di più nel servizio Jacopo Forcella. Giovanni Palma entra nell'orbita del Teramo. Il tributarista, fino ad aprile vicepresidente della Juve Stabia, potrebbe presto rilevare una quota consistente del pacchetto del diavolo. L'indiscrezione rilanciata stamane dal QS partiva dalla possibilità di acquisizione della San Benedettese, da cui i fedeli vuole andare via, e Palma, avvocato con studi a Roma, Napoli, Milano e Londra. Smentendo l'avvicinamento ai rosso-blu, ha confermato invece di avere interesse ad entrare nel suo dalizio bianco-rosso. Una strada, quella per il presidente Campitelli uscita dopo una chiacchierata informale di qualche giorno fa e che nulla aveva a che vedere col calcio. Ma la buona predisposizione di Palma a ricominciare l'avventura col pallone, interrotta qualche settimana fa con le Vespe giallo-blu poi promosse in Serie B, deve aver dato la spinta al patrone bianco-rosso per cercare di approfondire la tematica. Lo dice anche Palma, stiamo valutando assieme un mio possibile ingresso in società. Il mio interesse è rientrare nel calcio dopo le mie prime esperienze, felici dal punto di vista calcistico e meno nei rapporti con i soci. La volontà è quella di acquisire un club e di esserne l'unico proprietario, così da non far nascere divergenze insieme alla proprietà e spingere sull'innovazione. Queste le parole rilasciate al quotidiano nell'edizione odierna. Anche se Palma potrebbe accontentarsi tra virgolette di una quota molto consistente del pacchetto, in modo da rilanciare un progetto calcistico che Campitelli ha in mente ma che deve avere il sostegno di imprenditori che ne affianchi inolazione specie dal punto di vista economico. L'incontro a Roma di oggi dunque non sarà risolutivo, ma solo un'ulteriore esplorazione della volontà di Palma di tornare a occuparsi di calcio dopo poche settimane. E dopo la brusca interruzione, arrivata a seguito della contestazione ricevuta a fine aprile, dopo la gara di spareggio al Menti tra Giuliano e Frattese per la promozione in Serie D. Gli ultras della curva sud-stabiese lo avevano accusato in quella circostanza di essersi defilato, lasciando da solo il patron Magniello. Un invito esplicito a lasciare il club che Palma aveva ufficializzato via social. Ora potrebbe avere anche una possibilità a Teramo? Complicato fare previsioni. Quello che è certo è che Campitelli continua ad intessere rapporti che siano in grado di dare un futuro diverso al suo diavolo, appena messo in salvo. Lasciamo i professionisti, scendiamo nei campionati direttanteschi. Domenica prossima alle 16.30 il Silvi giocherà i play-off promozione di prima categoria al campo Tiberi-Orsini sul campo del Giulianova annunziato. Appuntamento che arriva a poche settimane dal cambio ai vertici della società, ora preseduta da Antonio Del Vecchio, che andiamo ad ascoltare nell'intervista. Antonio Del Vecchio, presidente del Silvi, domenica ci sarà l'appuntamento con i play-off. Sfida secca, difficile in trasferta contro il Giulianova annunziata, però avete importanti ambizioni. Sì, è normale. Noi adesso arrivati a questo punto della stagione, credo che poi le differenze dei punti della classifica si azzerano. Quindi adesso conta soprattutto metterci volontà, forza, impegno, sacrificio. È l'obiettivo di raggiungere la finale del Gironi in questo momento e quindi superare questa semifinale. Per noi è un po' difficile perché avremo solo un risultato che è quello di vincere, invece mentre Giulianova avrà due risultati su tre e poi giocherà in casa la semifinale. Nelle ultime settimane due eventi, intanto la presidenza passata proprio da Antonio Del Vecchio, poi la riapertura delle tribune del campo Ughetto di Febo. Ecco, vogliamo spiegare un po' questi passaggi. Intanto come mai questa presidenza? Quali sono gli obiettivi? Sicuramente come mai questa presidenza? Perché io un po' già qualche anno fa ero stato già nel mondo delle tantissime con un'altra squadra, poi l'avevo lasciato e adesso sono rientrato. A me piace stare nel calcio, piace stare con i ragazzi. Mi rendo conto che è un impegno, è una carica molto importante e molto difficile. Spero di portarla avanti con umiltà e con impegno, sempre nell'interesse di questa comunità sul Varola, come ho avuto modo di dire in altri ambienti, che dovrà e spero di raggiungere degli obiettivi e delle categorie un po' più alte rispetto all'attuale prima categoria. Perché Silvi deve raggiungere almeno, secondo me, la promozione. Poi da lì in poi, strutturandoci e creando delle basi solide, come sono state gettate quest'anno, io spero di poter raggiungere un obiettivo importante, soprattutto perché quest'anno siamo ripartiti con il settore giovanile. Abbiamo fatto primi in tutte le categorie, tranne la Unionist Elite, che siamo arrivati secondi, e per qualche punto non siamo andati a fare la finale con l'Angolana. Quindi colgo l'occasione per ringraziare soprattutto tutto lo staff tecnico della prima squadra e del settore giovanile che hanno realizzato questi importanti traguardi quest'anno. È importante poi soprattutto giocare in categorie superiori con la riapertura dello stadio, perché con lo stadio che è stato messo a punto, ultimato, con le tribune che adesso sono state riaperte, con gli spogliatoi che sono stati completati e riaperti sotto una delle due tribune, e avere un campo del genere e giocare in queste categorie è veramente un delitto, dico io spesso. Quindi mi auguro che le due cose adesso camminano in categorie superiori. Adesso il calcio a 5, sono iniziati due giorni fa le fasi finali dei campionati studenteschi di calcio a 5. L'evento, giunto alla sua undicesima edizione, si sta svolgendo a Giulianova. Vediamo. Sono circa 500 gli studenti arrivati a Giulianova da tutta Italia per la disputa delle finali nazionali dei campionati studenteschi di calcio a 5. L'evento, iniziato due giorni fa, vivrà sabato la sua giornata finale. In competizione tutte le regioni italiane nelle categorie maschile e femminile. I sorteggi si sono svolti al Salinello Camping Village di Tortoreto, mentre le partite si stanno disputando al campo ex castrum Tiberio Orsini di Giulianova. Nella giornata di ieri, l'accensione del Bracere Olimpico al Porto. Però è suggestivo pensare che questi campionati studenteschi trovino collocazione in una cornice quella di un porto, quindi è un messaggio quello che lanciamo a questi giovani fondamentalmente. Il messaggio è della cultura del mare, quindi sarà altrettanto simbolico pensare all'arrivo dal mare delle bandiere dei tedofori, quindi non è una scelta casuale, non è soltanto qualcosa di folcloristico, è proprio un qualcosa a cui è sotteso, un messaggio più profondo, che è quel legame che unisce i giovani al mare. Con l'appuntamento in corso a Giulianova i campionati studenteschi di calcio a 5 tagliano il traguardo della undicesima edizione. Fra pochi giorni, come sapete, avremo anche l'organizzazione dei campionati mondiali studenteschi di tennis a Castel di Sangro. Siamo onorati e orgogliosi. Io ho sempre detto che un grande evento si fa quando sia una grande squadra. Io devo ringraziare tutti i docenti di educazione fisica e nonne che hanno collaborato con me e con l'ufficio scolastico regionale per la realizzazione di questo evento. E questo era il nostro ultimo servizio per quanto riguarda la prima edizione del TG6. Vi ricordo che se volete trovate tutti i nostri servizi on demand sul sito www.tv6.it e sulla nostra pagina YouTube. Vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle 21 con Velo, la trasmissione condotta da Jacopo Forcella con il patron Luciano Rabbottini che chiaramente si occuperà del Giro d'Italia, della tappa abruzzese che approda l'Aquila con un collegamento in diretta proprio dal capologo di regione, dal vivo del villaggio che attende l'arrivo della tappa. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata.